Non so perché l'agricoltura, l'accordo è tutti i danni delle alluvioni dal 2011 al 2013 che sono 45 milioni di euro. Dopo fai una girata di qua? 15 milioni allo Stato e 15 milioni. Ma i danni non solo all'agricoltura ma anche a... Tutti, tutti i privati, commercianti, famiglie, macchine sfasciate, tutti i privati. Allora facciamo prima una battuta, scusami, perdiamo due minuti però la cosa è... Mi fai una battuta sintetica con la quale apri il servizio. Dopo tante battaglie, finalmente non solo per gli agricoltori ma per tutti quelli che hanno avuto danni dalle alluvioni, dal dissesto idrogeologico.